Un progetto innovativo di turismo sostenibile promosso e sostenuto dalla Fondazione Carispac che permetterà di scoprire il centro storico grazie a visite guidate e accompagnate da rappresentazioni teatrali. Quattro eventi gratuiti realizzati in collaborazione con Welcome AQ, la compagnia teatrale Fenix 1530 di Luca Basile, il tour operator, i viaggi di Adriano, un nuovo modo di promuovere la città a porte aperte in mezzo alla gente dentro i cortili accompagnati dai personaggi delle vicende raccontate. Gli autori guideranno i visitatori alla scoperta dei luoghi e delle storie. Questo degli spettacoli itineranti, del turismo itinerante, è una novità importante e noi la vogliamo inserire in questa città che è il massimo della cultura, della bellezza, dei monumenti che stanno tornando all'antico splendore. E quindi non più soltanto un turismo legato allo spettacolo programmato, ma allo spettacolo che viene fatto attivamente dal turista, con il palcoscenico che viene trovato, che non è soltanto quello del teatro, ma che può essere quello del luogo nel quale si va a tenere questa iniziativa, in modo che di questa iniziativa ne possa godere il cittadino, perché scopre anche e meglio le bellezze che ha intorno, ma soprattutto chi viene nella città viene a vivere i luoghi che magari nel teatro sono rappresentati e lui invece viene chiamato nel luogo dove si tiene questo spettacolo e questa iniziativa. È rivolto a tutti, perché credo che uno sbaglio che venga fatto è quello di mitizzare eccessivamente la storia e questo la rende lontana. Invece in questa maniera si offre il volto umano delle persone, degli artisti, dei personaggi storici e si scopre che in realtà avevano le nostre stesse sfide, le nostre stesse frustrazioni e ambizioni e questi personaggi così acquisiscono un'altra dimensionalità, sono molto più vicini. Si parte sabato 5 novembre con ultimo atto processo alla storia del fascismo e l'operazione Quercia con due turni di visita alle 11 e alle 15, mentre alle 18 all'auditorium della fondazione si terrà una conferenza dello storico Walter Cavalieri proprio sull'operazione Quercia. Il programma delle visite guidate prevede altri tre appuntamenti, il 26 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Biaccice-Cenci, la storia il 10 dicembre, il Medioevo, per concludere il 16 febbraio 2023 durante il Carnevale con il Marchese del Grillo. Comunque un'attenzione, l'Aquila sta diventando un po' destinazione attrazione turistica. Ancora abbiamo tanto da fare, ancora manchiamo di proposta turistica. Questa proposta delle visite guidate teatrali itineranti del centro storico va in quella chiave, cioè dare offerta turistica sia per l'Aquilano ma anche per il turista.